Amore! Amore! Giovane Belmont... Tua madre mi ha portato via qualcuno che amavo. Oh, sì, potrei uccidere anche te. E lo farò. Un giorno. Richter Belmont. So quanto dolore c'è nella tua anima. Quanta tristezza e senso di perdita. Questa sedicente rivoluzione... è una bominia. È un abominio. I giorni di questo abominio finiranno molto presto. Prima che la luna sia piena... arriverà il Vampiro Messia. il divoratore della luce che inghiottirà il sole. Non si limiterà a schiacciare e rivoluzionare. Vorrà prima prosciugarne lentamente il sangue... per poi ridurli in pulvere le ossa. che... 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 ma io pregherò per te,